un giorno buongiorno l'italia dove abito a casa ma forse no forse oggi non abito perché si è arrivata della roba da amazon dall'alessia soprattutto la cover del mio telefonino che sguiscia come un anguilla angolo culturale anguilla bisatta quindi niente faccio la capatina jesolo dalle zone di valdobbiadene dalle colline trevigiane mi sono spostato in quel di padova perché ho dovuto portare pulmin dalla top group dicesi anche in fabbrica si è corretto in fabbrica l'hanno fatto loro quindi per sistemare quel problema che c'era con il climatizzatore che mi era stato montato da altri no praticamente niente l'abbiamo tirato su e quello era il problema principale cioè tirarlo su riuscire a staccarlo loro ovviamente avranno tutti i loro strumenti esperienza tutto quello che vuoi quindi l'hanno staccato senza problemi è venuto fuori che chi l'aveva montato aveva fatto dei buchi al di fuori della guarnizione del climatizzatore e per di più anche dove non andavano fatti quindi non solo nel punto del camper ma proprio anche nel climatizzatore difatti mi ha fatto vedere erano bucate le plastiche del climatizzatore cioè non dove ci andavano messe le viti insomma niente hanno dovuto riparare il disastro stuccare con la vetroresina tutto quanto coprire i buchi eccetera eccetera e alla fine me l'hanno montato correttamente come andava montato beh gli sono capitato nel periodo più sfigato della storia ossia la seconda richiusura per covid no io sono arrivato lì proprio per un pelo perché da domani mattina almeno qui in veneto dovrebbero iniziare a chiudere no quindi anche a vietare gli spostamenti se non necessari eccetera eccetera utilizzo il condizionale perché tutto questo si saprà domani ma forse a te non interessa tanto sta roba che la senti nei tg bravo esattamente ho parlato col caro mauro il quale gentilmente mi ha offerto la riparazione no e quindi per questo susseguirsi di piaceri chiamiamoli video riparazioni eccetera eccetera io gli ho buttato la ho detto ma ho capito bellissimi camper che fai che state facendo e tutto quanto ma porco cane con tutte le robe fighe che avete fatto cioè i camper 4x4 quelli da fuoristrada o quelli su base man dei camion eccetera no per quelli interessano allora lui ha detto no vabbè volentieri diciamo al momento non ne ha in casa in costruzione di quelli molto particolari che interessano a te però ha detto che è in ottimi rapporti diciamo con un suo cliente che probabilmente anche un suo amico non lo so che gli ha venduto uno di quei camper strafighi quella specie di motorhome ma su base man cioè sul camion è molto particolare e ha detto guarda è tranquillamente si può organizzare con quello è il problema qual è è bravo esatto hai capito che adesso chiudono tutto quindi si c'è diciamo la loro disponibilità però italia non so quando bene partiamo fuori una bella notizia e dentro una brutta ho appena letto le anteprime delle email qua dal singano telefono e praticamente ha scritto lasciate dicendo che purtroppo il tentativo di ripristinare i video della puglia non è andato a buon fine e quindi sono stati persi tutti i video e le foto della puglia tanta roba italia tanta tanta roba tanta roba non solo per i viaggi ma per quello che è successo per le cose fatte c'era anche l'alessia e poi anche il boccia tutto ricordo mi dispiace molto mi dispiace veramente molto le uniche foto sono quelle fatte da alessia con il suo telefonino con la boccia con la fotocamera sua da bambini che però vedi in questi casi è sempre meglio di niente e che tristezza vabbè dai andiamo via ho messo quello dell'ottimismo ma qua veramente non sei mai una gioia italia porca miseria e te dico mai una gioia col dente che me manca e domani mattina con anche al dentista e niente ho sbagliato giorno del dentista sono troppo ricoglionito vabbè approfitto di fare un po di bricolage mi sono stretto l'aggancio dentro della freccia che faceva poco contatto quindi ho stretto bene le parti metalliche quindi ora fa meglio contatto e gli ho messo riattivante elettrico a guarda l'arma flex che ho messo dentro la portiera questa parte no perché deve scorrere il vetro elettrico già che c'era ho dato una lubrificata anche al motorino dei terzi cristalli che ogni tanto non faceva bene contatto e ho provato a girare un attimo sta manopola con cazzavite mettendo un po su max che magari in teoria così va anche più veloce e adesso provo aggiustarmi la serratura perché non si chiude forse c'è da tirare un po di più il filo di ferro dentro premendola così vedi esatto lui dovrebbe spingerla per chiudere qua in realtà ciò non avviene quando fai poi tutti sti lavoretti di manutenzione è consigliatissimo sempre pulire il tutto perché sai che grasso e polvere già loro di per sé possono creare molti problemini pertanto sempre tutto bello pulito lubrificato come fosse nuovo che d'altronde deve essere nuovo quindi seguiamo le regole del nuovo pulito e lubrificato test prima di rimontare il tutto allora qui in teoria dovevi premere più di una volta per tirarlo in giù vediamo tac alla prima wow molto più potente infinitamente più potente dovevo spingerlo con la mano wow per me adesso è come avere il finestrino elettrico nuovo giuro non so se ti ricordi l'hai mai visto nei vecchi video per andare su si do i aiutarlo con la mano nonostante l'avessimo rilubrificato con michele tutto quanto e per scendere era lentissimo adesso non dico che sembra nuovo nel senso uno di quelli delle macchine moderne però quasi dai ci vediamo dopo adesso faccio la serratura a meglio che do anche una pulita con la spugna questo dopo si dopo faccio vedi anche qua comunque guarda dentro è ultra sporchissimo bisogna prima togliere bene tutto lo sporco e dopo gli si mette lo svito il ritro non sapevo neanche io se fare il video delle piccole modifiche come dire strutturali che ho fatto qua il pulmino allora aspetta ti faccio vedere velocissimi perché ho il cp fuori che chiede di entrare allora come qualcuno sa ora siamo in inverno e quindi sotto la cuccia del cp ho pensato di mettere la scatola con le magliette estive un paio di scarpe estive nascoste qui le scarpe da fiume poi lì ho dell'arma flex che mi avanzava guarda gli ho fatto fare il giro da qua a qua che ho detto non si sa mai se un giorno mi serve ma intanto mettendolo lì lui mi copre il termo che c'è dietro no dietro c'è un termo quindi meno calore da questa parte qui che insomma è dove ci sono le batterie non è che serve a calore qua e quindi più sfiato per sotto o per quelle bocchette laterali che abbiamo messo io e mirko o eventualmente per la sopra e dopo va sopra di qua insomma serve più che altro a scaldare le pareti no pareti a parte diciamo manda meno caldo lì dalle batterie che insomma non serve caldo gli arriva comunque non preoccupiamoci poi cosa avevo fatto qua avevo fatto qualcosa qui sotto messo tutta proprio tutta la roba del cane anche perché abbiamo visto con lo sterilizzatore quella la steril vita rimuove tutti gli odori quindi io la lascio la e ogni tanto gli butto lo sterilizzatore lo lascio acceso ah sì le mie ciabattine nuove guarda che belle un po un po da vecchio sono morbidissime tipo in memory perché per quanto cura io abbia delle cose per quanto stia attento sia delicato le tratti bene comunque sono quasi tutte puttanate non durano niente quindi queste ho deciso di prenderle su amazon spedite da amazon che così entro i due anni se vedo già che iniziano a partire gli faccio il reso e ne prendo un paio nuovo che altrimenti io non riesco a mantenere tutta questa obsolescenza programmata come dico spesso è una sorta di tassa più che un acquisto di cose materiali ma muoviamoci che c'è il cp che aspetta ma sì siccome avevo sbagliato giorno non era oggi doveva andare dal dentista ho detto passo a trovarmi a nonna passo nella vecchia casa cosa ho preso dei calzini corti che ne avevo pochi un paio di mutande la canottiera di michael jordan per il semplice motivo che siccome ho problemi alla schiena e devo fare questi movimenti qua no col pallone da basket allora ho detto se proprio bisogna farlo facciamolo ho fatto livello pro ah sì poi la mia vecchia telecamera della allo view con il cavo che avevo preso che quando voglia me l'attacco fuori cosa me ne faccio di tre retrocamere no una retrocamera pensavo di metterla o negli scarichi che guarda gli scarichi oppure nel nella parte quella dove c'è la visuale morta però secondo me forse è meglio metterla negli scarichi perché più le volte che mi serve per centrare gli scarichi non il buco che quelle che devo guardare la parte morta quando devo guardare la parte morta diciamo metto in folle tiro il freno a mano e vado nel lato passeggero a guardare il finestrino se posso passare se non è possibile far altro ci si muove così insomma la colpa è di chi fa le strade in questo modo sciocco dai singolo veloce che c'è il picco aspetta sì 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 ok allora ho preso questo antifurto qua che va anche a batteria ma lo collegherò il 12 volte dopo vedrò un attimo dove metterlo con i suoi due telecomandini i pulsantini che mi erano avanzati non si sa mai e questo è un potenziometro che avevo preso quando stavo facendo il mio salotto della casa vecchia all'epoca non so se può andar bene anche con le luci a 12 volti intanto lo prendo su se non va bene lo regalo e poi ok da pulire riprovo l'aspirapolvere per auto questo lo usavo all'inizio su scarosso poi ci ho rinunciato però con tutta la polvere che mi fa l'alcantara riproviamo riproviamolo almeno lo riprovo stasera se non va bene lo ributto giù subito ah sì è un'altra scatola di queste con il coperchio questo perché con il cambio di stagioni abbiamo detto che sotto la cuccia del cp ci vanno le magliette estive le t-shirt quelle colorate belle estive e nella scatola nuova ci possiamo mettere i dolce vita perché i dolce vita servono solo d'inverno le magliette estive solo d'estate quindi quelle due scatole le possiamo switchare in ogni caso qui sotto vedi ce ne stanno tre una una due e la terza ci sta lì come prima insomma quindi abbiamo liberato un po di spazio qui in più anche questo dolce vita qui quindi ok qui dentro avremo molto più spazio ah guarda che carino velocemente illuminazione molto fai da te guarda 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 allora questa è una borsa all'acqua calda da cervicali ma questo guarda che carino è quello che dentro ha i grani là l'avena di solito lo facevano con i semi di ciliegia no che tu lo scaldi nel forno o nel microonde e poi a te lo metti qui al collo resta caldissimo a va che bello solo vedo i cipi si in casa poi qui dentro guarda c'è sta roba nera che io non riesco a capire non è lo sporco le alghe capisci sembrano tipo pezzi di plastica non riesco a capire tipo pezzi di gomma di plastica non è non è sporcizia in ogni caso buttato del cloro finirò quest'acqua qui e dopo pulirò con la con la spugna c'è tirerò via quella spezia di plastica di gomma con la spugna ti vuoi chiudere o facciamo rissa ecco lo vedi è tipo qua cos'è una cosa tipo 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 che non riesco a capire ma non importa però aspetta un attimo che finiamo sì esatto in moon boot ve li porto dietro per il semplice motivo che non pesano nulla io direi mettiamoli qua che così quando serviranno vedi non disturbiamo il cipi il surface come puoi vedere quasi sempre sotto al lettino vedi che ci ho fatto scendere il cavo di alimentazione stacca luce e l'alimentatore praticamente qui e dopo appena più sopra il 220 se voglio l'attacchi e basta sta sotto carica questo perché così posso guardarmi film tranquillo da lettino se sei magari in compagnia con l'alessia che magari vuoi fare la serata allora ti metti il monitor grande i 4k gli attacchi computer all'impianto del camper allora hai mega mega cinema altrimenti va più che bene il surface attaccato lì sì che lo uso ormai poco poco come tablet perché tra il telefono e il coso non lo uso neanche più per i giochi del mame perché avevo il mame installato cos'è rimasto angry birds e il mame però resta imbattibile per guardarsi dei video o i film insomma ecco trovo attacchi lì e via tac così giù e tac eccolo là perfetto rimetto a posto la cuccia del cipi la chiamo dentro se no si incazza e distrugge tutto cipi non ho fatto niente non ho fatto niente ti ho anche girato il coso così sei più pulita sì 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 poi ho già messo nella lista desideri un altro tappetino di questi qua color pulming che così quando è lavare gli si dà il cambio e resta i colori belli perché sennò proprio un pugno in un occhio a averlo blu marrone aspetta è stato aggiunto a casa pulming il metro che non si sa mai è sempre comodo e poi cosa avevo aggiunto ah sì queste siringhette che mi possono servire per mettersi dentro tipo un po di varacchina da mettere nel serbatoio esterno prima di caricare nel buchetto prima di caricare proprio un pochino poi ricarico l'acqua ovviamente in piccolissime quantità non succede nulla la uso un po per tener pulita l'acqua questo d'estate d'inverno non serve a niente ma si aspetta il reparto covid minchia cane si è appena entrata già che scorreggi neanche il tempo che sarà la porta comunque guarda il reparto covid eccolo là tutte le mascherine e qua sopra niente tutti i cavi alla corrente le prolunghe una bottiglia vuota se mi serve vino extra il purificatore d'aria e dei panni e sorbi polvere che ho trovato nella casa vecchia io non li comprerei mai ma già che c'erano ho detto usiamoli e finiamoli ovviamente anche se la scatola è per i vestiti va lavata perché sai che singola soprattutto pulito perfumato e ordinato